buongiorno a tutti oggi temperatura molto primaverile siamo in svizzera in direzione monte bar chiesa di san lucio ci vediamo dopo dai ciao ciao a 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